Salve a tutti, siamo qui di nuovo con il Triple Thumbru. Questa volta volevo farvi sentire il primo pezzo musicale che ho cercato di accompagnare subito dopo averlo costruito. È un pezzo di Sant'Ana e mi ha permesso di verificare che oltre all'indicazione di base, che è quello di aiutare i disabili, i bambini, gli anziani e così via a suonare. Questo di fatto è uno strumento completo che in mano a dei percussionisti veri può restituire delle soddisfazioni incredibili. Comunque facciamo partire il pezzo e osservate quello che io ho sperimentato la prima volta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.